E' il 23 giugno, uno dei giorni più dolorosi della storia del calcio Catania, perché ricorre il secondo anniversario dall'inizio dell'inchiesta ai treni del gol che portò Yetney nella terza serie del calcio italiano. Sono passati più di 700 giorni, ma ancora oggi non si sa nemmeno un nome di quelli che avrebbero venduto le partite ai rossazzurri per permettere a Yetney di raggiungere la salvezza nell'allora Serie B. E alla fine, dopo due anni e l'unica società a pagare risulta del Catania, è sempre molto difficile che le cose possano cambiare. Una ferita che resta aperta, ma che si sta cercando pian piano di rimarginare il più possibile, a partire dai conti che ormai sembrano quasi appienati del tutto e dal gap verso le altre categorie. Non sarà semplice, ma per quel che trapella da settimane è in atto il piano di risanamento definitivo del club e grazie a questo l'omonaco ha potuto già dare il via alla campagna acquisti dopo aver raffidato la panchina a Lucarelli. Sono arrivati l'Odi e Caccetta, a breve toccherà l'ex paganese Alcibiede che sarà seguito da Blonnet tedeschi, tre acquisti per blindare la difesa nella quale però ci saranno anche altri arrivi ed è per questo che si seguono altre piste su tutte quelle che porta l'ingrosso del Matera. Poi si dovrà pensare all'attacco dove Pozzebon ha dato in partenza, ma sta facendo di tutto per convincere la dirigenza a trattenerlo. Un po' come Russotto che il Catena ha messo sul mercato, ma non avendo ancora una destinazione certa, vorrebbe restare in maglia rossazzurra a giocarsi il posto. Tutto con la certezza di alcuni punti fermi, tra cui di Grazia Anastasi, che nella prossima stagione rappresenteranno due delle pedine principali dell'attacco di Lucarelli per muovere l'assalto alla Serie B.